Quest'elegante ideale Lewis, targate a Ete, sono in undici, mezzo meccanico in movimento. Arretrato Rember Mail, numero 8, via la macchina. Ray Charles dal centro, con allargo Ramses degli Dei, all'interno Rashput in fondo, poi Rapsodi a Ete, con allargo Ruthmans, punta in avanti Ramses degli Dei, 13 e un battito in lancio, chiede strada, la sta ottenendo, il targato Dei, che al completamento della stessa scende, lungo Ibiril. 400 in 29, Ramses, Ray Charles, poi Rashput in font, per linee esterne il 4 di Rothmans e il 3 di Rally Regal, lontano il 5 di Roberta, che cerca di ricongiungersi. 600 se ne vanno in 45, qualche spicciolino, e ora si va sulla penultima curva, grado a piacimento VP, il suo Dei, e conduce liberamente in piegata. Completamento anche del mezzo miglio, iniziale nell'ordine del 1 e 2, tranquillissimo, Ramses degli Dei, allargo Ruthmans, di dentro Ray Charles, e ora Ruthmans fa sul serio, impegna il leader, 17 e 3 il chilometro. 500 alla meta, non ci sono variazioni sostanziali, ne è venuta fuori una corsa tattica, si affaccia l'otto di Rember Mail, frazione di fronte in 14 e 7, 1,32 e 1,75 di miglio. Ha distribuito ancora a beni parziali il leader, e mantiene leggero vantaggio, si è eliminato Rino d'Italia, ora scappa via Ramses degli Dei, prende vantaggio, allargo Rothmans, Rothmans va deciso, impegna il leader, lotta serrata, i cavalli sono in zona traguardo, Ramses in vantaggio, e sul traguardo i due, perfettamente apparigliati. Io ho 2, 1 e 4 sul mio cronometro, in perfetta appariglia i due. Andiamo a vedere un po' se possiamo rivedere le immagini di questo arrivo, veramente molto incerto, proprio i due perfettamente apparigliati. Vediamo se la regia mi ridà un pochettino il replay. Vedete, Ramses si difende a denti stretti dall'avversario, ci prova Gaetano Di Nardo con Rothman, impegna il leader, il palo si avvicina, e notate che i due, ancora un po' più avanti, sono perfettamente apparigliati sul traguardo. Quindi, foto stretta stretta, ma molto stretta. Andiamo un po' più avanti per il terzo e numero 6 di Ray Charles. Per il momento è tutto, linea alla regia. Grazie a tutti.